Il GAL Ponte Lama chiude il 2015 inaugurando il Centro di Informazione Turistica di Trani. Ieri l'evento di presentazione degli itinerari turistici con i relativi strumenti di comunicazione del GAL Ponte Lama, oltre all'inaugurazione del Centro di Informazione e Accoglienza Turistica presso Palazzo Palmieri a Trani. Per il GAL è sicuramente un risultato importante quello di mettere al centro della città di Trani un infopoint che possa essere di raccordo per entrambe le città. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi, era uno degli obiettivi del punto del GAL, quello di portare informazione turistica all'interno delle due città, Trani e Biceglie. Questa è una delle tappe conclusive del nostro percorso. Ieri sera è iniziato con l'inaugurazione del castello a Biceglie, oggi qua e poi ci saranno altri eventi. Questo è il risultato di uno staff che è stato in grado di consumare soldi pubblici bene. Indubbiamente è il punto terminale di un lungo percorso che coinvolge anche il cosiddetto B-side, cioè un percorso che punta a valorizzare le eccellenze di questo territorio. Sì, le eccellenze del territorio direi in un'ottica di sistema, proprio adesso non abbiamo modo di vederlo, ma in questo punto di informazione turistica ci sono anche esposti prodotti tipici, proprio perché riteniamo, era l'intento del GAL inizialmente, e stiamo cercando di portarlo avanti tal quale riteniamo che i prodotti del territorio e turismo siano la stessa cosa. Ed è un punto terminale di un percorso che ha coinvolto anche tutte le associazioni di categoria, i rappresentanti politici del territorio, tutta una serie di attori che si sono messi tutti intorno allo stesso tavolo. Io spero che più che un punto terminale sia una tappa, nel senso che siamo arrivati alla fine di una tappa, di un percorso del GAL, alla fine di un settegno, e speriamo di riproporci tal quale anche nel prossimo settegno, consideriamo questa una tappa, una bella tappa, un bel successo, grazie soprattutto alla grande fiducia che ci ha mostrato il Consiglio di amministrazione, consideriamo una tappa e speriamo di essere ricandidati felicemente anche nella prossima programmazione. Ed è questa la sfida per il futuro perché la Regione dovrà decidere che fare dei GAL. Esperienze come quelle del Ponte Lama sono sicuramente un buon biglietto da visita per tutto il sistema. Credo che le due città debbano dare atto di quello che si è fatto. Io con il Consiglio di amministrazione e il direttore con tutto il suo staff abbiamo fatto in modo di dare tutto quello che abbiamo potuto dare. Nessuno degli amministratori delle due città sanno quello che abbiamo fatto e credono che sia per noi un ottimo biglietto da vista per ricandidarci alla prossima programmazione.